Salve a tutti ragazzi, sono ZetaWheelix ed oggi sono qui con un nuovo video di GTA Online in cui mostrerò i cambiamenti più importanti del nuovo aggiornamento uscito a sorpresa in tutte le console e si tratta di praticamente un DLC sorpresa fatto uscire dalla Rockstar recentemente. Non so il nome dell'aggiornamento, però so solo che si tratta della patch 1.32 Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un piace, ci vuole un secondo di cliccare a commento nel blu Lasciate un piace alla pagina Facebook, la trovate nella descrizione di questo video e inoltre iscrivetevi al canale se non è ancora fatto per altri contenuti Con questo nuovo aggiornamento sono stati aggiunti due nuovi veicoli nel sito dell'officina di Benny Sono veicoli già esistenti, però con la possibilità di aggiungere modifiche a questi veicoli e se sbloccate le modifiche di questi veicoli, da come mi hanno detto molti, questi veicoli diventeranno da sportive a super La Karin Sultan, se modificata, diventa Karin Sultan RS, mentre la Bravado Banshee, se modificata, diventa Banshee 900R Da ricordare che però non si trattano di veicoli lowrider, quindi nell'officina in questi veicoli non possiamo aggiungere l'idraulica a questi veicoli Se volete saperne di più riguardo questi due veicoli, le prestazioni, modifiche e quant'altro e cosa ne penso Date un'occhiata al video di questi due veicoli nella descrizione di questo video Parlando di altro, in questo nuovo aggiornamento è stata aggiunta una nuova modalità chiamata Terra e Sotterra In questa nuova modalità competizione, fino a 4 squadre di paracadutisti, questi paracadutisti si lanciano dai rispettivi Cargobob Per conquistare e mantenere il controllo di una piccola area che si trova nella mappa, la troverete subito, praticamente vedrete il fumo dall'alto Considerando il numero di giocatori, concentrati in un'area stretta, si tratta di una modalità frenetica e caotica Al cui esito sarà incerto e non privo di colpi di scena E vince la squadra che per prima riesce a mantenerle il controllo dell'area per un determinato periodo di tempo Anche non continuo Per farvi capire, insomma, avete presente la modalità quartier generale che abbiamo in Call of Duty o non so se c'è su Black Ops 3? Ecco, praticamente è una variante di quella con la differenza che lo spawna al posto di essere a terra Spawnate nel Cargobob e vi dovete lanciare ogni volta dalla paracaduta per poi andare nel quartier generale Che vi ricordo che è fisso, non proprio come quello di Call of Duty che si sposta ogni tanto Questo è proprio una specie di quartier generale fisso, ecco Il ragionamento che vi voglio far capire era proprio questo Riguardo altri cambiamenti, praticamente le guardie del corpo riceveranno una notifica Quando il capo cambia il nome dell'organizzazione Ed è stata aggiunta la possibilità di personalizzare il tettuccio della Declasse Mamba Due cambiamenti non molto importanti, insomma, come anche le correzioni Ce ne sono veramente tantissime, però cercherò di dirvi quelle più essenziali, ecco Hanno corretto il prezzo dei modelli del HVY Insurgent In quanto alcuni prezzi erano incorretti E la stessa cosa vale con i veicoli con le armature acquistabili nei vari siti di gite online Infine ci sono state un sacco di correzioni riguardo l'espansione dirigente e altri criminali Che non avevano corretto ancora nella patch precedente Come vedete in questo aggiornamento non ci sono tantissime novità Questo aggiornamento è stato fatto più che altro per correggere gli errori che avevamo nel DLC dirigente e altri criminali Concludendo questo video vi lascerò il link per vedere tutti i cambiamenti di questa nuova patch nella descrizione Però prima volevo dirvi una cosa che potrebbe essere utile per tutti Questo weekend, quindi domani, da quando sto facendo questo video Uscirà un evento che ci permetterà di guadagnare soldi, RP doppi, sconti in gioco riguardo contenuti e altro ancora Infine Rockstar ci dice di tenere gli occhi aperti per il prossimo mese riguardo qualche oggetto che ci farà innamorare E ovviamente questo è riferito al DLC di San Valentino che ovviamente uscirà il 14 febbraio E molto presto vi porterò già in anticipo che cosa uscirà in questo DLC di San Valentino in un video Quindi niente ragazzi, vi ricordo nuovamente video dei due nuovi veicoli modificati al massimo nella descrizione di questo video Come anche il sito che parla dei cambiamenti della patch E detto questo, per favore se non piace e ci vuole un'altra descrizione di Kikorre.blu Lasciate un'altra pagina Facebook, la trovate nella descrizione di questo video Inoltre iscrivetevi al canale se non è ancora fatto per altri contenuti Da ZWX è tutto, ci sentiamo al prossimo video